Il nostro Fabio Frabetti aveva raccontato del malfunzionamento del parcometro qui del parcheggio di via Pietri gestito da Atam esattamente il giorno 1 settembre. Ebbene, esattamente proprio il giorno dopo, quindi il 2 di settembre, il parcometro è tornato in funzione. Atam S.p.A. ci ha inviato una nota proprio ufficiale in risposta al nostro servizio che noi insomma leggiamo testualmente. In data 1 settembre alle 11.30 siamo stati informati dalla ditta fornitrice dei servizi di parcometro che a causa di problemi al provider sia SSB i pagamenti con carta di credito risultavano non essere pienamente funzionanti. Tra l'altro, ci dicono gli addetti ai lavori, un problema proprio su tutto il territorio nazionale. La nota prosegue dicendo che immediatamente Atam S.p.A. si è attivata per sollecitare la riparazione del guasto e come dicevamo proprio il giorno successivo, il 2 di settembre alle 17.40, il problema era appunto risolto. Atam S.p.A. ricorda insomma che i parcometri erano comunque funzionanti con il pagamento in contanti, tra l'altro come vedete proprio che sta accadendo alle mie spalle e con Arezzo Card. E ovviamente l'azienda poi si scusa comunque per questo seppur brevissimo disagio insomma con i cittadini. Ma proprio mentre stavamo realizzando questo servizio, alcuni turisti hanno insomma voluto sperimentare di persona che tutto stava funzionando come si deve. Allora, vediamo. Allora, la infila qui, seleziona l'importo, col tasto più. 5 euro è onesto però, è adottato un'altra. Ancora, ecco, mastercard, valid. 5 euro. Dopo è gratis il parcheggio. Grazie.